Ben trovati spettatori e spettatrici, nuova puntata di Senza Confini, il mondo cambia, cambia il mondo. Ben trovato padre Francesco. Ben trovati a voi. Per la prima volta da quando seguiamo i Dieci Comandamenti dichiariamo all'inizio della Catechesi un paradosso, il paradosso per cui solo gli ingiusti amano. Allora, per comprendere questo principio ci lasciamo guidare dal Vangelo di Marco, siamo al capitolo 15, versetti 33-39. Li leggo, padre Francesco poi li commentiamo. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con voce forte, Eloì, Eloì, lemà sabachthani, che significa Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano, ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e postala su una canna gli dava da bere dicendo, aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un grido forte, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse, veramente quest'uomo era figlio di Dio. Allora, padre Francesco, che cosa ci indica a questo passo? Nelle puntate precedenti abbiamo analizzato pienamente il Vangelo di Giovanni, la passione, il processo che racconta Giovanni. Sì, siamo nel contesto dell'ottavo comandamento, riprendiamo da qua, perché altrimenti ci perdiamo un po', non è facile seguire quello spezzatino che poi ci siamo costretti a fare, e in un qualche modo l'enunciazione che abbiamo più volte ripetuto in questa trattazione è quella del non pronuncerai falsa testimonianza. Abbiamo detto più volte che questa enunciazione, questo modo di esprimere il comandamento fa riferimento a un contesto preciso, cioè fa riferimento al contesto di un procedimento di tribunale, un procedimento forense, un procedimento penale, amministrativo che sia. Abbiamo scoperto e analizzato abbondantemente la questione, seguendo appunto il Vangelo di Giovanni, che il procedimento a cui si fa riferimento o al quale noi siamo tenuti a fare riferimento come cristiani, di fatto è il processo che Gesù subisce durante la sua passione, quello che lo porta alla morte di Croce. E abbiamo seguito il Vangelo di Giovanni, perché nel Vangelo di Giovanni Gesù a un certo punto dà testimonianza, cioè realizza, mette in opera l'ottavo comandamento, dando una testimonianza forte nei confronti di Pilato. Una testimonianza di verità. Una testimonianza di verità, sì. Che cosa ne esce fuori da questo processo? Poi abbiamo scoperto in realtà che nel processo lui che è il processato, lui che è l'accusato, diventa lui quello che non solo gestisce, guida il processo, è lui che ne tiene le redini, ma in realtà lui stesso poi nel proseguo dell'azione, nel proseguo del racconto, è lui stesso che mette in evidenza le maschere che i vari attori hanno. In realtà vanno a finire loro sul banco degli imputati, potremmo dire. Quindi abbiamo scoperto che si ribaltano le posizioni e che l'azione di Gesù Cristo era proprio finalizzata a trovarsi a quel punto. A quel punto perché a quel punto bisognava, tra l'altro è bellissima la parola greca che indica la verità, la cito spesso perché è una parola molto significativa, aletheia, che significa letteralmente togliere il velo, quindi togliere la maschera. Cioè è lo smascheramento, vengono tutti smascherati davanti a Gesù, viene smascherata la burla, la farsa di quel processo perché la morte di Gesù era stata, come abbiamo visto, era stata decisa molto prima e di fatto il procedimento dà una sola sentenza, è una sentenza che viene ripetuta per Bocca di Pilato, che è l'unico che è tenuto ad amministrare o è titolato ad amministrare la giustizia e che dice che Gesù è innocente. Quindi di fatto che cosa succede in questo procedimento? Viene svelata questa realtà, questa verità, ma non solo, viene svelato il fatto che Dio non solo non si vendica, non solo non agisce contro i suoi aguzzini di fatto persecutori, ma a quelli che gli vogliono togliere la vita, a quelli che vogliono cancellarlo dalla faccia della terra e in qualche modo quella vita lui la offre, la dona. Quella morte in croce, di fatto del figlio di Dio, dimostra chi è Dio veramente, qual è la sua verità, qual è la sua realtà. Dio non solo è l'innocente per eccellenza, ma è anche colui il quale dona la vita per amore. Questa è la verità, questa è la verità che viene testimoniata da Gesù con quella morte in croce. Mentre Giovanni di fatto racconta l'avvenimento in un certo modo e alla fine la morte di Gesù viene descritta in questo modo, dice Gesù ha portato tutto a compimento, cioè avendo centrato l'obiettivo in un qualche modo, no, quel tutto è compiuto, vuol dire in realtà non è tutto è finito, tutto è terminato, ho finito il lavoro, no, è centrato l'obiettivo, cioè sono arrivato dove dove arrivare. L'obiettivo era quello di dimostrare la verità di Dio, l'innocenza del figlio di Dio. Quindi se l'innocenza e la verità di Dio viene dimostrata in questo modo, vuol dire che di fatto, ma questo lo rivedremo adesso, di fatto se lui è l'innocente che viene condannato ingiustamente, diciamo i colpevoli stanno da altre parti. Il procedimento prevede che se è falsa la condanna, la sentenza, vuol dire che di fatto chi l'ha pronunciata o chi comunque l'ha portata a compimento, l'ha portata a termine, si trova in difetto, cioè è una questione semplicemente di buonsenso, è una questione razionale. Ma di fatto il Vangelo di Giovanni appunto descrive la morte di Gesù come appunto il punto terminale di un procedimento che porta a centrale obiettivo e nel quale Gesù, morendo, consegna, dà la sua vita, mette la sua vita, mette il suo spirito, cioè mette la sua realtà personale, questo significa da un lato nelle mani di Dio, nelle mani, nelle tue mani consegna uno spirito e dall'altro la rende a tutti noi, alla Chiesa, perché in realtà quello spirito viene effuso su tutti. Cioè Giovanni vede l'effusione dello spirito, quella effusione pentecostale appunto che avviene nella descrizione di Luca il giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo, la morte di Cristo in croce, la viene anticipata appunto nell'evento stesso della sua morte. quando lui muore, lui pare edo che ne top neuma, cioè trasmise lo spirito, trasmette lo spirito. Questo trasmette lo spirito, lo trasmette verso l'alto al padre e lo trasmette verso il basso, diciamo, sull'umanità, sulla Chiesa. Abbiamo visto che proprio nella lettura di oggi Marco racconta in maniera diversa, quell'azione, descrive in maniera diversa quell'azione, utilizza semplicemente il verbo spirare. Sì, spirare. Che è più semplificato, è semplificato. Sì, perché quello spirare, infatti anche il bangero di Giovanni nella versione J anteriore al 2008, dovrebbe essere nel 74 se non erro, nella versione comunque precedente, la versione che utilizzavamo precedentemente all'ultima, traduceva il bangero di Giovanni allo stesso modo, cioè chiamato il capo spirò. In realtà il greco dice altro perché è molto più significativo, cioè molto più evocativo di quello che di fatto poi si indica semplicemente col verbo spirare, esalare l'ultimo respiro, morire sostanzialmente, che utilizziamo in italiano. Prendendo invece il brano che tu adesso hai letto, ci accorgiamo di diverse cose che non vengono riportate nel brano di Giovanni. Intanto Giovanni non dice che Gesù emette un alto grido e espira, e dice semplicemente che chiina il capo e dona lo spirito, quindi arriva all'esaurimento e come se si spegnesse in un qualche modo, donando tutto. Invece Marco mette in evidenza che lui grida, grida fortemente, questa questione fa aprire un dibattito di tipo medico, di tipo medico legale, perché la domanda è di che cosa è morto Gesù in croce, fondamentalmente questa è una domanda che magari i cristiani comuni, alcune volte magari l'ho trattata anche in altre argomentazioni, in altri dibattiti, però di fatto è una domanda che è bene porsi, perché? Perché noi non facciamo caso più al racconto. Quando sono questioni che sono note, noi semplicemente spegniamo l'audio e il video, cioè dice vabbè questa la so, punto, e questa la so ti porta a dare per scontato alcune cose, ti porta a sorvolare su dei particolari che invece sono significativi, perché il problema è che noi sappiamo che lui muore prima degli altri due, cioè lui viene crocifisso insieme ai due ladroni, diciamo così, come vengono definiti. E quando arrivano le guardie, perché questo lo dice anche Giovanni nel proseguo del discorso, quando arrivano le guardie e trovano che il primo e il terzo sono morti, cioè sono vivi, e lui è morto, cioè infatti poi gli trafiggono con la lancia e il costato. Questo è quello che descrive Giovanni nel proseguo del discorso del suo Vangelo. Un evento che lui stesso sottolinea come nient'altro probabilmente all'interno della scrittura, all'interno del suo Vangelo. Nella vecchia traduzione a memoria, cito, si diceva che chi ha visto e ne dà testimonianza, la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero perché anche voi crediate, cioè dice questa cosa che è di una ridondanza, di una... Sembra quasi un gioco di parole. Un gioco di parole, ma di una pomposità esagerata, tra l'altro chi ha visto ne dà testimonianza, cioè chi ha visto dà testimonianza e che l'ha visto, cioè quindi ha visto questa cosa, e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero, cioè l'ha visto. Questa cosa corrisponde a verità perché è successa, la sua testimonianza corrisponde al vero, cioè è proprio vero, non è la mia verità, ma è la vera verità, potremmo dire, corrisponde al vero, dice che perché voi crediate? Crediate in che cosa? Che questo è stato trafitto con la lancia, e poi dalla lancia, dalla trafittura, anzi del costato, quindi dalla trafittura e della lancia, esce fuori dal costato sangue d'acqua, in che cosa dovremmo credere? Perché questo evento, perché questo particolare è così importante per i Fanzo di Giovanni? Il particolare è che non viene riscritto dagli altri, abbiamo letto adesso Marco, non dice nulla di questo, dice un'altra cosa però, dice che a un certo punto si squarcia il velo del tempio, che è un'altra immagine, tra l'altro anche qua mi piacerebbe vederla in questo modo, noi siamo abituati, non facciamo film, non produciamo film sicuramente, qualche documentario lo produciamo, non ce li facciamo nemmeno film, non ce li vogliamo fare, però siamo abituati un po' a, come dire, guardare con un certo occhio anche le produzioni cinematografiche, ci sono delle produzioni che vengono fatte appositamente, in un certo modo, adesso siamo abituati anche ad avere i droni, quindi abbiamo i droni gasalinghi, tante cose non ci fanno neppure più tanta impressione, siamo abituati anche a produrli in maniera autonoma, una cosa che prima invece ci volevano attrezzature, permessi speciali, girate con l'elicottero, insomma con mezzi di produzione dei costi molto elevati, adesso basta un drone da quattro soldi, diciamo quasi, per produrre più o meno gli stessi effetti e ancora addirittura effetti migliori. Ma qui Gesù muore fuori dalle mura di Gerusalemme, quindi su una collina, adesso purtroppo se si va a Gerusalemme questa cosa non risulta più, perché la Basilica del Santo Sepolcro, quindi il luogo del Calvario, eccetera, sta tutta all'interno, nello stesso luogo, è circondata dalle abitazioni, è circondata da altri edifici, e sta nel mezzo della città di Gerusalemme, quindi non te ne accorgi, sostanzialmente, almeno questa è l'impressione che ho avuto io, ci sono andata una volta sola, e quindi oggi non abbiamo molto l'idea, ti devi rifare un po' ai film che vedi, a quelli che, quelli Zeffirelli, non so, a The Passion, quindi a dei film che, o a delle immagini dati da figurine, che cercano di ricostruire l'ambiente, ma in realtà, appunto, questa crocifissione viene fuori dalle mura, Gerusalemme è alle spalle, Gesù muore con alle spalle il Tempio di Gerusalemme, e tra l'altro, qui c'è una discrepanza enorme tra il racconto che fa Giovanni e il racconto che fanno i tre sinottici, dal punto di vista delle tempistiche, perché secondo, diciamo, le tempistiche dei sinottici, Gesù sarebbe morto di fatto il giorno di Pasqua, e questo non è possibile, cioè, i giudei non avrebbero potuto fare questa cosa, non l'avrebbero potuta mettere in atto questa cosa, perché dico questo? Perché in realtà, lì si descrive l'ultima cena con l'istituzione dell'eperastia, l'ultima cena viene nella cena pasquale, cioè nella sera della festa, quella che noi chiamiamo la prefestiva, diciamo di fatto, non nella serata della prefestiva, ma nella vigiliare, che vuol dire già il giorno della festa, ma questa cosa è appunto impossibile, tant'è che abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni, non abbiamo continuato poi a leggere il discorso che lui fa dopo la morte di Gesù, perché lui dice che era il giorno della parasceva, e proprio Giovanni lo dice, era il giorno della preparazione, perché i corpi non rimanessero, appesi lì quel sabato, era un giorno particolare, quel giorno, perché è un giorno particolare? Perché la sera inizia la festa, loro non possono toccare cadaveri, non possono sporcarsi, non possono diventare impuri, non entrano nemmeno nel pretorio da Pilato, per non sporcarsi, l'abbiamo commentato, abbiamo visto tutto quel movimento, di Pilato, che entrava, è lui che gli fa il favore, proprio perché, quindi siamo nella preparazione, per cui non è possibile che Gesù abbia mangiato la cena pasquale secondo il calendario ufficiale, tant'è che poi, tra l'altro, Giovanni non parla della cena, e l'unico che non ne parla, parla invece del gesto della lavanda dei piedi, di cui non parlano gli altri. Esistevano diversi calendari, in Israele, c'era un calendario, era quello che probabilmente causavano i puri di Comoram, in realtà, per cui Gesù ha potuto comunque celebrare una cena pasquale, ma probabilmente non secondo il calendario ufficiale, quindi avrà anticipato la cena alla sera precedente, di fatto, tant'è che lui muore in croce, il giorno della Parasceve, il giorno della preparazione. Quel giorno della preparazione, il giorno della Parasceve, secondo il Vangelo, appunto, di Giovanni, e non secondo, appunto, la ricostruzione che ne fanno i sinottici, nel giorno della Parasceve, quel Tempio che sta sullo sfondo è un luogo che è particolarmente animato, perché è il luogo in cui si recano tutti gli israeliti che vogliono celebrare la cena pasquale, secondo il calendario ufficiale, per fare che cosa? Portano l'agnello a sacrificarlo, portano l'agnello per il sacrificio. Quindi è il momento in cui gli agnelli vengono uccisi, vengono sacrificati nel Tempio e il sangue versato ai piedi dell'altare. Mentre sullo sfondo succede questo, quindi nel Tempio succede questo, il vero agnello, ecco l'agnello di Dio, questa cosa l'ascoltiamo nei primi passi del Vangelo di Giovanni, è lui che viene indicato come l'agnello, da Giovanni Battista, ecco l'agnello di Dio, è lui l'agnello, è lui l'agnello vero, quello che viene sacrificato su un altare particolare, che è l'altare della croce, cioè è lui che viene innalzato e sacrificato lì, mentre nel Tempio di Gerusalemme vengono sacrificati gli agnelli. Quindi c'è uno sfondo che Giovanni non coglie, non riprende, perché lui si ferma sul gesto della trasfissione del costato, sul gesto, sul simbolo del costato trafitto, ma quel costato trafitto è un squarcia che cosa? Cioè quella lancia che cosa squarcia? La lancia squarcia sì il costato di Cristo, ma quel costato è il costato di uno che durante la sua vita pubblica ad un certo punto proclama distruggete questo Tempio e io in tre giorni lo farò risorgere. Quindi quello squarcio è lo squarcio non soltanto di un costato fisico, cioè di una carne fisica, quindi del costato di un uomo, ma è lo squarcio che avviene all'interno di una realtà che è quella del Tempio. E quello squarcio del Tempio viene descritto nel Vangelo che tu hai appena letto in cui si dice che morto Gesù si squarcia, si spacca, si apre una tenda, che è la tenda che sta all'interno del Tempio e che tiene nascosta la parte più intima del Tempio che è quella del Santo dei Santi in cui viene custodita che cosa? L'Arca dell'Alleanza in modo particolare nella quale stanno le tavole della legge e la manna del deserto e il bastone d'Aronne ed è il luogo quello in cui Dio abita, poggia i suoi piedi perché l'Arca è fatta come una specie di cassetta sulla quale sta una predella d'oro e sulla predella ci sono due serafini, due angeli che con le loro ali formano una sorta di trono. Dio siede su quel trono e poggia sui piedi su quella predella e la nube della presenza del Signore in abita quella zona. Quella zona intima del Tempio non è accessibile normalmente. È accessibile soltanto ai sacerdoti a sommo sacerdoti in modo particolare in certe occasioni dell'anno non manco sempre quindi nemmeno sempre può entrare. Dal momento in cui Gesù muore sulla croce quel velo si squarcia quel velo si spacca si spacca quel velo si spacca quel costato e torno a ripetere la domanda ma Gesù di che cosa è morto? Perché dice vabbè ma che ti importa? Non mi importa perché non si capirebbe perché Giovanni in un qualche modo esaspera a tal punto sottolinea a tal punto la sua descrizione no? Cioè chi ha visto nella testimonianza la sua testimonianza è vera e degli sa che dice il vero perché anche voi crediate perché Giovanni esaspera a tal punto questa descrizione? perché? Perché da un morto non esce sangue non esce nulla se uno è morto è morto tu lo puoi tagliare puoi fare quello che vuoi non esce più niente il fatto che esca qualcosa ti dice che c'è qualcosa che non torna e quel qualcosa che non torna non torna a maggior ragione se si fa caso alla descrizione che appena ha letto di Marco e mi suonato grido spiro di che cosa si muore in croce? Normalmente si muore per asfissia non si muore per distanguamento si muore per asfissia si muore per asfissia perché quella posizione delle braccia messe in alto in quel modo tende col passare del tempo col passare delle ore a far richiudere la gabbia toracica per cui il condannato l'appeso sulla croce piano piano fa fatica a respirare fa fatica quindi a mandare l'ossigeno al cervello e negli organi vitali per cui si entra in coma e si muore piano piano per asfissia tant'è che Giovanni lo dice visto che gli altri due erano ancora vivi e dovevano spicciare la pratica come diciamo noi perché alle sei entrava il giorno della festa quindi c'era il coprifuoco dalle sei si entrava in un clima particolare per cui la festa non si sarebbe potuta celebrare se si fosse avuto a che fare se si avesse avuto a che fare con dei morti beh allora che cosa fanno vanno le guardie e spezzano le gambe al primo e al terzo spezzano le gambe e spezzando le gambe i diciamo i condannati non possono più fare forza sulle gambe che venivano addirittura crocifisse al palo quella crocifissione da un lato diciamo ti fa vedere la crudeltà di un altro chiodo ma in realtà la crudeltà peggiore sta nel fatto che fissando le quelle fissando quei piedi al legno di sotto il il condannato a morte era portato di tanto in tanto a risollevarsi su quelle gambe trovava un appoggio sicuro doloroso ma sicuro perché non poteva scivolare con i piedi facendo così si sollevava sollevando si ampliava la gamba toracica tornava a respirare e quindi a ossigenare il cervello e gli organi vitali e la l'agonia durava per ore quindi durava a lungo più a lungo quindi era una cosa di una crudeltà fenomenale questa vanno gli spezzano le gambe non potendosi più appoggiare e stando a quel punto appeso morto sulle gambe quindi appesi nel vuoto praticamente quasi come dire impiccati se non perché non stanno sul collo ma per le braccia di fatto la morte sopravviene un po' non sopravvenire nel nel giro di qualche minuto addirittura o al massimo nell'ora o in un poco tempo insomma arrivano da Gesù Gesù però è morto perché è morto perché muore prima è meno resistente e soprattutto se muore se è morto prima muore dice dice qua Marco gridando e come fa uno che sta per morire asfissiato a morire gridando se tu mori cioè se tu sei se per morire asfissiato cioè non c'è il fiato non c'è il respiro come fai ad emettere quel grido non è possibile quindi c'è qualcosa non torna è l'ipotesi che lui effettivamente sia morto per un infarto sia morto di crepacuore di fatto che è anche una cosa diciamo che è evocativa forte si sia spaccato si sia spaccato letteralmente il cuore cioè la donazione è talmente totale che si apre il cuore di Gesù il cuore si squarcia si spacca e la spaccatura non avviene per mezzo della lancia la lancia la mette in evidenza ma quella spaccatura è avvenuta prima per cui il sangue dal cuore pulsante finisce nella sacca pleurica e depositandosi lì si separa nella parte del siero e nella parte solida quindi è quello che succede al sangue quando quando tu in un qualche modo lo metti all'interno di una provetta e non lo sceccheri dopo un po' il siero si separa dalla parte che diciamo più rossa più che si deposita in basso quindi quel sangue d'acqua di fatto è il 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 sangue raggrumato e l'acqua è il siero di quel sangue che si sono separati perché quel sangue si è andato a depositare all'interno della della sacca pleurica quindi lui muore di crepa cuore Giovanni ci vede la realizzazione di un progetto di salvezza perché quel sangue e quell'acqua sono per lui poi il segno evocativo di una storia che è stata preparata l'acqua in modo particolare è il segno dello spirito metterò dentro di voi uno spirito nuovo toglierò da voi il cuore di pietra metterò il cuore di carne quel cuore che diventa umano quello spirito che lui dona verso l'alto verso il basso questo spirito che tra l'altro questa cosa noi la ritroviamo all'inizio del bambino di Giovanni perché a un certo punto i discepoli vanno da Giovanni Battista ma anche questa cosa l'ho detta più volte e vanno a dirgli ma dici tu come hai fatto a riconoscerlo non l'hai mai visto come hai fatto a sapere che era lui quello che il Messia cioè quello che doveva venire e Giovanni dice guarda io non lo conoscevo ma ho avuto una una profezia che mi diceva che è colui sul quale avrai visto discendere e rimanere lo spirito Gesù diventa lo scrigno dello spirito quello spirito che è dentro di lui si deposita dentro di lui il giorno del battesimo in modo particolare lui diventa il portatore dello spirito e quello quello scrigno si apre all'improvviso non perché l'ha aperto il soldato ma perché l'ha aperto Dio stesso cioè il cuore che si apre e il soldato semplicemente è come se avesse messo la chiave in uno scrigno che ha aperto e ha allargato la strada dalla quale si affonde questo 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 spirito sull'umanità ecco perché Giovanni dice che ha visto nella testimonianza perché voi crediate perché quello spirito quello spirito viene donato quello scrigno si è aperto proprio in quel momento e quello scrigno che si apre non dona soltanto l'acqua dello spirito dona anche il sangue il sangue che è il sangue dell'alleanza il sangue che è quello che è in grado di mettere in circolazione nelle vene dell'umanità il sangue di Dio è quello che fa di noi il popolo vero di Dio il popolo di sangue l'alleanza vecchia si era fatta con il sangue di buoni di tori di capri di giovenchi cioè di animali di fatto e quindi era un'alleanza simbolica adesso l'alleanza viene siglata nel sangue stesso di Dio e quel sangue che viene riversato sull'umanità ma è il sangue del figlio di Dio e quello scrigno si è aperto là allora torno perché ho divagato scusate la divagazione ma penso fosse necessaria sperando che mi sia fatto capire ma perché dietro a queste cose ci sono c'è una profondità di significati enormi bisognerebbe starci ore giorni su queste su questa su questo brano su queste riflessioni e comunque non riusciremo a accogliere la pienezza la profondità di senso di significato di diciamo di quello che viene descritto allora dicevo mentre Giovanni si ferma sull'immagine di Gesù quindi la telecamera sta puntata lì quello l'evento e lui descrive quello che vede in presenza e lui tra l'altro è quello che sta sotto la croce no? è quel discepolo che riceve la madre lui sta proprio lì quindi la sua immagine si ferma lì Marco invece c'è il drone Marco c'è il drone e mentre diciamo descrive la scena della morte a un certo punto inizia a zoomare come quei film dove ti portano questa cosa che non so la goccia d'acqua che ti porta fino ad entrare in una casa no? e si segue la goccia d'acqua Marco prende la morte no? prende quella 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 croce e la proietta all'interno della realtà del tempio no? quel tempio che è Gesù Cristo viene riproiettato sulla anche qua sul sul simbolo che avrebbe dovuto portare avrebbe dovuto proiettare avrebbe dovuto trovare la sua pienezza nella figura stessa di Cristo quindi va ritroso no? sulla realtà del tempio che cosa vede in quella realtà? vede e percepisce fa descrive e quindi come dire filma un altro squarcio che è lo squarcio del velo quello squarcio del velo che cosa fa? che cosa dimostra? beh questa cosa Don Fabio la descrive in un certo modo e adesso ci vado perché il modo di descrivere Fabio è un modo ma non è sicuramente l'unico e comunque non a mio modo di vedere è parziale perché perché lo squarcio del tempio io lo leggo a partire dalla lettera agli ebrei che a un certo punto dice che ultimamente è stata aperta una via nuova e vivente che è la sua carne dice mi pare che il capitolo 10 della lettera agli ebrei dice ultimamente è stata aperta un'autostrada verso Dio e l'autostrada verso Dio è stata aperta attraverso uno squarcio lo squarcio è lo squarcio del velo del tempio lo squarcio che Giovanni vede nel costato di Cristo perché è uno squarcio nella carne vivente quello squarcio nella carne è l'unico squarcio che ti può fare arrivare alla realtà di Dio è la via obbligata ad arrivare a Dio quindi che cosa succede che ti è stata aperta una strada per poter entrare a vedere a gioire a fare comunione con la realtà di Dio questo è quello che descrive la lettera agli ebrei Don Fabio che dice che squarciandosi il velo Dio appare per quello che è di fatto la dice al contrario di come la scrittura sembra descriverla non vuol dire che ecco perché diciamo il modo di descrivere di Fabio è sbagliato mi piace di più però la descrizione precedente perché in realtà la descrizione che mette in evidenza il movimento di Dio cioè chi è all'origine perché sembra che lo squarcio si è squarciato vabbè si è rotto quello vabbè grazie a quella rottura noi possiamo accedere adesso in una zona che era inaccessibile in realtà è Dio stesso che fa sì che quella realtà diventi accessibile perché quell'evento diventa l'evento per cui lui possa rivelarsi a tutti in maniera totale in maniera completa non più parziale no quella quella visione non è più riservata al sommo sacerdote una volta all'anno non so a pochi eletti è una visione che da questo momento in poi è aperta a tutti è per tutti è una è una realtà che si apre al mondo intero cioè diventa immediatamente fruibile da tutti tutti quelli che si vogliono addentrare dentro quella autostrada vogliono prendere quella strada che passa per il cuore di Cristo e che porta a Dio e che cosa fa vedere questa autostrada che cosa manifesta quello squarcio da cui poi escono sti raggi che vengono descritti da Sor Faustina nell'immagine famosa in realtà poi se andiamo a vedere ce ne sono diverse e l'immagine originale non è quella che gira si trova a Vilnius nel suo convento ed è un'immagine che lei fa fare che poi però chi la realizza secondo lei non la realizza secondo quella che quello che lei aveva visto non gli piaccia ne può fare un'altra ma quei raggi che escono che cosa che cosa fanno vedere realmente oltre al sangue e l'acqua e tutto quello che ne deriva fanno vedere la natura stessa di Dio cioè noi ci fermiamo ai particolari rischiamo di perdere essenziale fanno vedere la natura di Dio fanno capire percepire fin dove si spinge il Dio che ama il Dio dell'amore il Dio che dà tutto questa è la verità che Gesù testimonia e per testimoniarla ha bisogno di un processo pubblico torniamo su quella cosa ha bisogno di andare da Pilato perché questa sentenza sia una sentenza pubblica il processo sia un processo pubblico con tanto di verbale e che sia per tutti dicevo l'altra volta la resurrezione per pochi l'evento della resurrezione per pochi si rimane di questo a poche persone ma l'evento della morte cioè quell'evento lì è un evento per tutti un evento universale un evento aperto a tutti perché quella apertura deve testimoniare la verità deve levare il velo deve scoprire deve far deve far rompere il velo che sta nel tempio e che mostra la realtà di Dio a tutta la realtà umana e che cosa mostra appunto l'amore di Dio quell'amore che fa dire al centurione sotto la croce davvero costruire il figlio di Dio questo questo centurione che è abituato sicuramente è un pagano che è abituato sicuramente ad altri tipi di Dei a Dei a Dei che non muoiono a Dei che mostrano la forza la loro potenza riconosce in quel gesto la rivelazione di un Dio perché quel Dio ha una potenza molto superiore ad altri Dei perché si mostra con tutta la potenza tutta la la forza che deriva dall'amore che non può essere descritto se non diciamo con con questa con con questa giusta posizione di gesti con questa sovrabbondanza di gesti che ti fa capire la potenza di fatto ineffabile della della realtà divina col Vangelo di Matteo invece ci aggiungiamo un altro particolare e il particolare è quello dettato dai sepolcri infatti leggiamo che la terra si scosse le rocce si spezzarono sempre il velo del tempio che si squarciò in due da cima a fondo e poi i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono siamo al capitolo 27 lo leggiamo al capitolo 27 nei versetti tra il 50 e il 54 sempre del Vangelo di Matteo sì anche questa è una cosa interessante perché sono diciamo questi fanno vedere le particolarità un po' degli evangelisti che sono cronisti e che quindi raccontano un fatto sì ma non è soltanto allora perché qui c'è tutta una questione sul che cosa significa il racconto ci sono due termini di solito si usano per gli addetti lavori due termini tedeschi c'è l'istoria historisch la cosa che lo svolgimento storico e poi c'è la geschichte che è la storia nella sua interpretazione per semplificare possiamo dire i fatti e le opinioni no 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 perché l'opinione non necessariamente è legata al fatto tant'è che poi poi dalle opinioni escono fuori le ideologie o le due cose si richiamano infatti la DOXA che c'era un istituto demografico una volta non so se esiste ancora è l'opinione infatti dice è l'opinione di chi è andato a votare o di chi non so se che cosa la DOXA in in greco e indica il mondo di chi la sa raccontare meglio sostanzialmente no tante volte appunto chi la sa raccontare meglio è quello che ha ragione perché è quello che ha i proseliti quello che ha la maggioranza dalla sua parte e non è detto che la maggioranza dica delle cose che poi effettivamente siano piantate siano abbiano delle basi come dire solide da questo punto di vista non è assolutamente detto invece qui la GESHIKTE è un'interpretazione dell'avvenimento ma quella quella interpretazione è legata all'avvenimento cioè io descrivo un evento che è avvenuto e metto dei particolari per far capire che cosa quell'evento ha significato capito quindi non è un'opinione è un qualcosa che viene messo un particolare un po' come il pittore che ti mette delle sfumature dei colori dei dettagli che sono delle chiavi di lettura esatto che ti danno la possibilità di leggere o di allargare l'orizzonte di riferimento ti fanno capire che cosa significa quel quell'evento no? su un conto che ne so tu tu piglia per esempio un episodio di cronaca nera non non facciamo muore uno cioè viene ammazzato uno viene ammazzato uno per quale motivo è stato ammazzato eh? qual è qual è la motivazione quali possono essere i chiavi di lettura allora tu metti sulla scena diciamo o nella descrizione dei dettagli che possono aiutarti a capire il perché sei arrivato a quel punto questo è il discorso ed è quello che succede nella descrizione che fanno gli evangelisti perché gli evangelisti interessa cercare di far capire chi è questo Gesù Cristo cioè perché è venuto quindi cercano di far capire la sua la sua vita e la sua azione a che cosa si riferiscono cioè che cosa sottendono quindi è questo il discorso allora Matteo mette questo questo episodio del dei dei sepolcri che può richiamare una serie di cose per esempio me ne viene una che Fabio non cita il fatto che la morte di Cristo libera effettivamente lo diciamo tante volte e nel credo apostolico si dice discese agli inferi no quel discese agli inferi significa semplicemente morire sì può significare quello ma ha anche questo un valore evocativo tant'è che c'è una famosa omelia che si legge nell'ufficio delle letture del del sabato santo credo sia di Meritone di Sardi il quale un certo punto è una cosa bellissima si scrive ma era bellissima la morte di Gesù dice che quel giorno in cui lui sta nel sepolcro siccome non è abituato sostanzialmente questa la dico io un po' così per diciamo per alleggerire siccome non è abituato a stare fermo è uno che si muove soprattutto Marco dice che è sempre in movimento e quel giorno dice non può stare fermo lì nel sepolcro aspettando il padre che lo risuscita eccetera allora che fa scende agli inferi va nell'inferno per liberare quelli che sono prigionieri prigionieri degli inferi dal primo giusto all'ultimo quindi apre quelli che apre le celle delle quindi c'ha le chiavi per aprire le gabbie in cui la morte tiene fermi tiene fissi no le persone che sono morte prima di lui in un qualche modo quindi apre le porte a tutti i giusti per la comunione finale con il Signore quindi c'è questo evoca la descrizione di sepolcro che evoca questa cosa ma al di là di questo si parla di sepolcri per esempio a proposito Gesù ne parla quando dice voi siete quelli che i vostri padri hanno ammazzato i profeti e voi gli avete fatti i sepolcri no oppure voi che siete dei sepolcri imbiancati che fuori apparite belli e dentro avete delle ossa della roba un po' crescente che non ha valore non ha significato quindi diciamo l'evento dei sepolcri può essere letto in diversi modi in particolare però c'è una cosa che viene in un qualche modo descritta nel Vangelo e che riguarda un passaggio di Gesù all'interno della Decapoli dove si parla di uno o due persone insomma che sono un po' come gli scemi del villaggio che di fatto bazzicano i sepolcri eccetera che vengono tenute ai margini della della società no in realtà questi sono degli indemoniati che Gesù è un indemoniato che Gesù poi alla fine libera dalla presenza del demonio da questa legione di demoni che lui ha dentro e che chiedono a Gesù questa legione di demoni chiedono a Gesù di poter andare di poter migrare all'interno di una mandria di porci e questi 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 porci poi si butteranno all'interno cioè si butteranno da 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 un dirupo all'interno del mare insomma si buttano al mare quando arrivano gli abitanti del luogo e vedono quello che Gesù ha fatto che il lo scemo del villaggio no in un qualche modo è stato liberato dalla dalla sua dal suo male e quindi si è rinsavito e vedono che questi duemila porci mi ricordo alla fine vengono sono stati scaraventati a mare con una perdita economica non indifferente chiedono a Gesù di allontanarsi di andarsene e qui una delle letture è dire vabbè chiedono di allontanarsi perché Dio Quattrino viene prima del Dio Trino cioè il Dio Denaro viene prima del resto ma in realtà c'è molto di più dietro a questa descrizione perché perché quello scemo del villaggio che Bazzi che sepolcri in realtà fa comodo cioè quando c'è qualcosa che non va c'è quando c'è qualcosa che non funziona tu che cosa fai cerchi il responsabile è colpa tua è colpa sua è colpa di quello è colpa di quell'altro quindi lui diventa il capro espiatorio lui diventa il capro espiatorio di tutto nel momento in cui quel capro espiatorio ci si accorge che non può essere più capro espiatorio perché è sano perché sta bene perché ne ha già vito e beh allora se le cose continuano ad andare male evidentemente è colpa di qualcun altro o di qualcos'altro ti crollano le tue convinzioni questa cosa di fatto si ribalta in modo speciale nei confronti proprio della figura di Cristo che viene messa in croce se quella se quel Cristo messo in croce è uno che è da condannare meglio che uno muoia che tutta la nazione come dice Caifa no? ne perisca allora se quello è la causa dei mali presenti ed eventualmente futuri e presunti futuri diciamo e quindi l'abbiamo individuato e non l'abbiamo ammazzato abbiamo risolto i nostri problemi ma se quello di fatto in realtà che pensavamo di aver ucciso di fatto un innocente Pilato lo dice a chiare lettere e sta dando testimonianza alla verità di Dio che è Dio dell'amore e le cose continuano ad andare male evidentemente i problemi non stanno da quella parte stanno dall'altra parte e quelli che di fatto pensano di essere i giustizieri e quindi stanno dalla parte dei giusti in realtà sono quelli che stanno dalla parte sbagliata della storia sono loro gli assassini che hanno assassinato il giusto sono loro i colpevoli sono loro quelli che di fatto devono mutare il loro atteggiamento e questo produce tutta altra storia produce tutte altre sensazioni e produce tutt'altri guai per quelli che avevano pensato di aver sistemato le cose grazie Padre Francesco per la catechesi di questa puntata grazie a voi per averci seguito l'appuntamento è la prossima puntata grazie a tutti